Maria Callas e Tullio Serafin di nuovo insieme a teatro. Dopo aver calcato i più gloriosi palcoscenici e dopo aver dato vita a rappresentazioni che ancora oggi sono ricordate con nostalgia, la Divina e il suo mentore tornano fianco a fianco questa volta a Cavarzere, città natale del grande maestro, nel teatro che oggi porta il suo nome. In un percorso che spazia dagli abiti di scena alla rassegna stampa, dai gioielli della Divina fino alla corrispondenza tra i due grandi artisti, torna a vivere quello che fu uno dei più intensi sodalizi artistici del Novecento. La mostra, ideata da Bruno Tosi, presidente dell'associazione Maria Callas, prima di giungere a Cavarzere è stata ospitata al Metropolitan di New York, a Los Angeles, a Lisbona e nei più famosi teatri internazionali. Dopo questa ultima tappa italiana nella terra di Serafin, l'esposizione sarà di nuovo oltreoceano per poi spostarsi a Pechino e tornare quindi definitivamente a Venezia, dove sorgerà un museo permanente. La mostra, la divina e il suo mentore, promossa dal comune di Cavarzere, in collaborazione con l'associazione Maria Callas e il circolo Amici del maestro Tullio Serafin, rimarrà nel teatro di Cavarzere fino al 21 febbraio. Grazie a tutti! Grazie a tutti!